Buona giornata non è perché le cose sono difficili che noi non osiamo è perché non osiamo che sono difficili oggi vi invito a buttare il cuore oltre l'ostacolo a esercitarvi a provare le cose che oggi ritenete difficili che oggi vi mettono un po' in ansia un po' in preoccupazione perché solo esercitandosi e praticando queste cose difficili prima o poi a forza di praticarle diventeranno facili e diventeranno parte del tuo quotidiano e le farai di tacco come si dice quindi non ti preoccupare esercitati e fai andare avanti il cuore prima della testa perché il cuore sa che cosa vuoi veramente quali sono veramente i tuoi sogni e quali sono veramente le tue aspettative Daniele Pasi per felicità e pace om shanti 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 buona giornata Grazie. 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 Grazie.